Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panettoncini con gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di cinque ore circa. Gli ingredienti che ci serviranno in questa prima fase sono acqua, subietto di lievito di birra, zucchero, farina manitoba, tuorlo e burro. Andiamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 6. Aggiungiamo il cuorlo e il burro. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola e facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. Lasciamo lievitare l'impasto nel boccale chiuso per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore adesso passeremo al secondo impasto. Gli ingredienti per il secondo impasto sono farina di tipo 00, acqua tiepida, zucchero, tuorli, aroma di mandorle, pur a pezzi, gocce di cioccolato e aroma di panettone. Diamo il via al secondo impasto. Aggiungiamo all'interno del boccale l'acqua e la farina. ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Aggiungiamo adesso lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Aggiungiamo adesso i tuorli, l'aroma di mandorle, l'aroma di panettone e il burro. e facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. A questo punto aggiungiamo le gocce di cioccolato facendo partire il bimbi per un minuto. A velocità spiga e dal foro del coperchio pian piano aggiungeremo le gocce di cioccolato. trasferiamo l'impasto nei pirottini di carta riempiendoli per metà. Dopo aver posizionato l'impasto all'interno dei pirottini adesso li faremo lievitare fino a quando non raggiungeranno il bordo. in un luogo caldo e asciutto, possibilmente un forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione cuociamo in forno prediscaldato statico a 180 gradi per 10 minuti e poi abbassare il forno a 160 gradi e continuare la cottura per 15-20 minuti. I panettoncini sono cotti, inseriamo uno spiedino e posizioniamolo a testo in giù per farli raffreddare. Panettoncini con gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!